Dai consigli ai anziani, alle scuole e università chiuse sino al 15 marzo, dalle misure per la quarantena, al rinvio di tutti i congressi e i convegni in cui è coinvolto il personale sanitario fino allo stop di spettacoli al teatro e al cinema. Sono alcune delle misure previste dal decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per combattere la diffusione del coronavirus. La vita quotidiana degli italiani subirà delle modifiche necessarie in questo momento storico, con alcune eccezioni. Sono esclusi dalla sospensione ai corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie o alla formazione presso i ministeri dell'interno e della difesa. Ma niente viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche. I dirigenti scolastici potranno attivare, se possibile, lezioni a distanza, tenendo in considerazione anche le esigenze degli studenti con disabilità. Le assenze, maturate dagli studenti a causa dell'emergenza coronavirus, comunque non avranno ripercussioni sull'ammissione ad esami finali e sul voto. Non solo scuola, però, gli accompagnatori dei pazienti non potranno restare nelle sale d'attesa dei pronto soccorso, tranne diverse indicazioni del personale sanitario preposto. L'accesso di parenti e visitatori è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura. Capitolo smart working, il lavoro agile, senza vincoli di orario o di luogo. Le aziende potranno applicarlo a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi contrattuali. Sospesi congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto il personale sanitario. Infine, niente manifestazioni e spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Insomma, meglio restare a casa, datori di lavoro permettendo e sperare che tutto questo serva davvero e che l'emergenza passi il prima possibile.